Una posizione ben precisa e definita, quella del sindaco di Chieti Umberto di Primio in merito ai rifiuti da Roma, fa il punto della situazione in Abruzzo. Tutto questo in attesa che la regione decida per la proroga o meno del trattamento degli stessi per il 2019. Ma intanto la situazione è quella che ci vede come regione Abruzzo e come comuni interessati dall'eventuale arrivo di queste 70.000 tonnellate di rifiuti da Roma. Ma ci vede intanto preoccupati per il fatto che dal comune di Roma, dal sindaco Raggi, non è arrivata alcuna richiesta. È arrivata una laconica e anche abbastanza asettica lettera di un assessore che ci chiede di ricevere queste 70.000 tonnellate di rifiuti per il trattamento. E questa è un'altra cosa che va chiarita. Le 70.000 tonnellate dovrebbero essere gestite dal trattamento meccanico biologico, cioè dai TMB di Chieti e di Aielli. Ricordo che questa è una cosa che sfugge alla autorizzazione del comune piuttosto che della regione, perché parliamo di impianti che normalmente trattano rifiuti che arrivano da fuori regione. La cosa sulla quale siamo stati molto chiari, i sindaci che hanno partecipato a quella riunione e lo hanno detto all'unisono, ma anche la regione è d'accordo su questo, e che i rifiuti che arriveranno da Roma non potranno rimanere nella nostra regione. Cioè verranno trattati nei TMB, ma poi dovranno essere smaltiti, dovranno essere conferiti in discariche che non sono le discariche abruzzesi. Questo per una ragione molto importante per quello che mi riguarda, perché io non posso riempire la mia discarica, che è un vantaggio per i miei cittadini oggi, con rifiuti che vengono da fuori città, e soprattutto perché il sistema che noi abbiamo adottato in Abruzzo oggi ci dice che siamo al 62% nella città di Chieti, ma è la media anche abruzzese della differenziata, a Roma sono al 42%. Si destra una mossa ad aumentare la loro differenziata e non ci costringano ogni volta, con lo spirito di solidarietà che mai abbiamo negato, ad essere quelli che soccorrono un sistema, quello della giunta romana, incapace di fare bene la raccolta differenziata e quindi la gestione dei rifiuti. Lei li farà entrare a tiro o no? Io ho chiesto che ci sia garanzia per i cittadini, chiedi per la mia comunità, che i TIR intanto siano il minor numero possibile. Ho chiesto che non siano aggiuntivi e poi ho chiesto anche che non ci sia un impatto eccessivo sul territorio. Quindi i TIR dovranno arrivare di notte, non dovranno appesantire il traffico locale e ho chiesto anche che il Comune di Roma metta mano al portafoglio per un ristoro nei confronti delle città e della regione che accoglie in questo momento un'emergenza dettata dalla loro incapacità.